Ciao, mi chiamo Alessandro e mi occupo di abbigliamento promozionale e gadget. Prima di interfacciarmi con quello che è il mondo del marketing digitale, io lavoravo con il passaparola. Questo faceva sì che avevo dei mesi dove riuscivo ad avere dei buonissimi guadagni, dai 3, 5, 6 mila euro in un mese solo, ma questo non era continuativo, cioè nel senso che con il passaparola io magari lavoravo molto bene un mese e non lavoravo, oppure lavoravo molto poco, due o tre mesi. Poi un giorno mi sono imbattuto in un video di Matteo che spiegava che la cosa più importante di un business, qualunque business fosse, è imparare a vendere e vendere online è il modo migliore per poterlo fare. Io sono un acquirente molto difficile, ma mi ricordo che fui talmente convinto da quel video che acquistai subito Marketing Genius. E' una cosa molto strana perché non mi capita mai e ho pensato tra me e me, caspita se questo è così bravo a vendere io devo assolutamente imparare da lui e grazie a questo corso adesso lavoro tutti i mesi, quindi riesco a avere delle entrate buone, dei guadagni dai 3 ai 5 mila euro ogni mese e posso assolutamente dire che non mi lamento. Se anche tu sei nuovo e cerchi un corso di marketing che sia dannatamente pratico e molto funzionale per chi ha le basi, ma anche per chi è esperto, Marketing Genius è il corso che fa per te e te lo consiglio molto caldamente. Ciao, grazie.